in alto in su a Firenze dopo quando c'è papà che va a lemarsi come si chiama quella che dice tanto di Firenze che produce il friggio, il gelato vicino al cioccolato e poi lo mangio vicino alla grande cosa e come si chiama la grande cosa? la palla grande ecco la palla grande è il Duomo bravo la palla grande è il Duomo e quelli sono tutti i pezzi di casa mia due anni fa da facevamo queste discussioni ascolta Samia ma in questi giorni siamo andati dove a vedere la tua? ma c'era un'altra cosa, c'era un'altra cosa in Parigi vero papà? ma c'è una cosa lunga tipo con la putta e come si chiama? la torre ferma bella è quella con i buchi di ti è piaciuta? bella? no quella è ma Parigi è di un'altra persona ma noi non siamo andati poi abbiamo scritto nella lettera che quella è la casa nostra brava io non lo sapevo perché ieri ero piccolo tanto tempo fa ma ascolta ma a chi abbiamo scritto una letterina? a chi? al al? babbo? natale e che l'hai detto che è successo quando eravamo lì a un certo punto a natale? che è successo? è arrivato a lavorare allora perché l'avevo visto nella mia camera ah sì? è natale e quando sei andato in camera che cosa hai visto? cosa c'era? sotto sotto dove? eh i regali i regali li ha portati i regali li ha portati e racconta lui il padre ti ha portato il padre il ranger il mosso e poi? e poi l'uomo l'uomo il ragno e il mosso Ui, il mostro lo sia. No? Ma chi è il tuo amico? Seba. Si, e chi è Seba? Il amico. Ah, non è vero.